www.feyyaz.tv Fischi! Ma poi i cambi quindi come cazzo sono? Ogni quattro, ogni quattro! Ogni quattro! Ve li chiamo io! Ve li chiamo io e cambio ogni quattro minuti, giusto? Sì, poi anche ti metti. 3 o 4? Non mettine 3, compito! 3 e mezzo? Dove non ce la fanno? Ok, 3 e mezzo. A 3 e mezzo vi chiamo. Ma questo è un col di merda, eh! Ma chi è abitante? Ma perché non ne metti 3? F*** raga, la vedo crede! La vedo crede! Perché non metti un gol di merda? Ma questo è un gol di merda! Dai, dai! Ma non era un tiro resistente! 3 e mezzo! Dai ragazzi! Sì! Stai su, tira! Madonna! Il destro manco lo usa! Vai, vai, vai! Oh, pega, chiudi! Pega, pega! Presa, presa! Dai raga! Dai, dai, dai! Dai, dove è? Bravo! Va bene, dove è? Così, calci! Calci, frega il cazzo! Calcia quello con la fascia, va! Ma metti le 3, cazzo, cioè! Ma come? Continuiamo a dargli le punizioni così! Ma perché metti due uomini con qui? Stai zitto! Eh, bisogna un filo! No, ma stagò! C'è, che cazzo! Ma è chi ne 3? Sto filo... Dai, stai tranquillo qui! Sto filo di merda! Tutto cos'è che cazzo! Rapi! Va bene, dai! E due minuti? No, dai! Tre e mezzo, vi chiamo! Mi chiamo non ce la fa! Dai, vi chiamo a tre e mezzo, dai! Se no, poi se ne accorre! Tre e mezzo! Dai, 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 dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Arbitro! Basta! Oh! Ha rotto il cazzo! Arbitro! Schiando, eh! Cazzo! Eh, però è fallo! È fallo! Oh! È fallo! È fallo! No! Questa puttana! Eh, un minuto ragazzo, un minuto! Poi vedete qua quando scaldava, un minuto! Bravo Simo! Bravo Simo! Bravo Simo! Bravo Simo! Un minuto secondi! Ma peggia che nostra! Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai! Allora, per l'interno! Dai, 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 dai! Dai, ragazzi! Dai! Dai! Dai, Ciccio! Dai, Ciccio! Grande, Ciccio! È buona! Oh! È buona! È buona! È buona! Che cazzo vedi? È buona! È buona! È buona! Era buona! Entrate! È ora! È ora! È ora! È ora! Cambio! Vai, Ciccio! Cazzo! Perché mi ha saltato quello forte che non vado più? È ora! È ora! Cambio, Vado! Vai, Arco! Vai, Vado! Vai, Vado! È ora! Andiamo con il puntiere! Uno! Portiere! Scuso! Scuso! Vai davanti! Fa 4 minuti, noi richiamo! Ma non ci credo, ma... Bravo! Bravo Pane! Quattro minuti, fa quattro minuti e vi ricambio. È scandaloso. A me la vichiamo e cambia poi. Eh ragà! Sì, ma come cazzo sta usando? Oh, quello è un fio di puttana l'arbitro. Tutto a favore di sta pittando. Che cazzo ti fai fatto? Ma poi che cazzo ha fischiato il fuori qua che era dentro la panna? Perché ha scartato quello di spigere. Ma ragà! Chi è lui di puttana più po' d'alto? Ma l'ho già vista. Vai ciccio, vai ciccio, vai! Vai, vai, dai ragazzi! Ma ti metti di qua al favore. Pali, vai pali! Non va, non va Andre! Non va Andre! Ma ragà! Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Bene, bene. Bravo, ciccio! Oh, stella, stella! Bravo, Sivu! Sfortuna Ho due minuti Due minuti al cambio Dai ragazzi Dai 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 Grazie 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 E' a pallo? A chi esterno? Oh Gioia Quanto è passato? E' manca un minuto Quanto manca? Un minuto 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 Bravo Simo Bravo Hai che devo uscire adesso? Ehi tu Si Eh 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 Fai il cambio adesso No no Dicevo il cambio Sfortuna Faccio che Te cagli tutte le palle Si Ora vai Sfortuna 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 Ora mi so con le gambe Sfortuna Sfortuna Bu Eh Quanto Mi sono messi un Lugo 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 Ma perché siamo usciti ancora io e te insieme? Lugo 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 è veramente il boss è questo qua dentro il muso, muso dietro guarda quando io non voglio fare un professionista non puoi evitare è un momento possibile allora viene una squadra che cazzo ne so si ma che cazzo non c'entra loro non lo so non lo so non lo so sono Jacques non c'è bui dai dai perché ma poi metti a mettere un po' andate a g Centammese va ma o o Grazie a tutti